Veniamo adesso al più grande cambiamento di sempre, ovvero l'app foto. Ragazzi, l'app foto è veramente cambiata tantissimo. Questa è la sua schermata principale, quello che vedremo appunto da oggi in poi. È veramente tutto diverso. Qui abbiamo le nostre ultime foto recenti, ma qui già abbiamo i giorni recenti. E ci crea quindi questi mini album. Abbiamo poi l'album di persone e animali. Abbiamo le nostre raccolte in evidenza e possiamo uscire anche cosa mostrare e cosa no. Abbiamo i nostri ricordi. Abbiamo la sezione viaggi, questa veramente utile. E poi i nostri album, album condivisi e le foto in primo piano. In basso poi tutte le varie sezioni e anche suggerimenti per applicare degli sfondi. Possiamo poi personalizzare la nostra, diciamo, applicazione foto. E ragazzi, è veramente incredibile. È personalizzabile tantissimo e possiamo fare un sacco, un sacco di cose. Andando in viaggi, qui ho tutti i viaggi che ho fatto. Toccando su un viaggio, accederò a tutte le foto di quel viaggio, ma poi posso anche creare un filmato. So che magari all'inizio saremo un po' spaventati perché anche a me è successo veramente un cambiamento epocale. Ma una volta presa confidenza, capiremo le potenzialità di questa app. E guardate, poi possiamo anche aggiungere dei filtri. Ad esempio, voglio soltanto gli screenshot. Ecco qui. Avremo la possibilità di avere solo gli screenshot. Oppure solo le foto che ho modificato. Oppure solo le foto modificate che però sono degli screenshot. Posso fare la stessa cosa. In questo momento non ne ho. Facciamo video modificati. Eccoli qui. Quindi ragazzi, veramente potentissimo. Il nuovo, la nuova app foto. E poi ci sono le opzioni per la vista. Dove possiamo ingrandire o diminuire appunto le nostre icone. Mettere o meno la griglia delle proporzioni. Mostrare o meno gli screenshot in galleria. Questa è una cosa che io adoro. Quindi qui avremo solo le foto, niente screenshot. Ed è un'altra cosa molto interessante. Non è tutto perché ragazzi, adesso c'è una nuova app. La nuova app si chiama Password. Non è altro che la sezione, diciamo, Password di iPhone, è strapolata e diventata applicazione. Però adesso è tutto, tutto, impostato e gestito in modo migliore. Guardate. Tutte le password salvate. Quelle che riguardano il Wi-Fi, le passkey, i codici, la sicurezza, quelle eliminate. Insomma, adesso veramente si potrà accedere a tutto quello che vogliamo e aggiungere e rimuovere il password. Naturalmente farò degli approfondimenti. Però questa applicazione è veramente, secondo me, potente, interessante da sfruttare. Grazie. Grazie. Grazie.